Hey, ben ritrovati, l'Andra Link, con un attuno in questo nuovo video. Oggi porto alla vostra attenzione una mod davvero interessante per quanto riguarda Inazumi Live in Go Galaxy. Avete presente quando nell'anime e anche nella serie di videogiochi Strikers, quando effettuate una tecnica, la tecnica appare con un font tutto quanto particolare, con colori vibranti o magari anche qualche effetto grafico sul nome stesso della tecnica? Ebbene, c'è un progetto di Light Sworn che fa tutto questo. Ovvero, quando in Inazumi Live in Go Galaxy, Supernova e Big Bang andrete a usare una tecnica, questa apparirà come nell'anime e nella serie videogiochi Strikers. Intanto vi faccio vedere come installare questa mod su Citra e ovviamente anche su Nintendo 3DS. Nel caso usiate Citra il procedimento lo state vedendo qui nelle immagini, ma nel caso usiate il 3DS vi basti sapere che basterà trascinare i file che troverete nel download del gruppo Telegram di questo progetto nella cartella ROMFS, quella che abitualmente usate per le patch. Ci tengo a precisare però che la patch in questione è del gruppo di Geniv. Comunque sia vi lascio il link in descrizione del canale Telegram in modo da potervi unire a quel canale e seguire il progetto che è aggiornato costantemente. Ogni singolo giorno vengono aggiunte foto e progressi della patch. Nel mentre sto registrando questo video ci sono ben 50 tecniche già adattate nella mod. Io ho preparato per voi un piccolo showcase in modo da farvi un'idea. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.